... Insomma un'altra protagonista, Amy Bianchi, abbiamo sentito l'autrice, Amy invece è l'attrice possiamo dire, no? Sì. Allora spieghi un po' il tuo ruolo perché è un ruolo molto, un po' a 360 gradi. Sì, allora in questo progetto, perché mi piace pensarlo come un progetto che è soltanto all'inizio, mi ha coinvolto Anna facendomi inizialmente leggere il suo testo, un testo molto poetico e da quel momento abbiamo deciso di affrontare la tematica cercando di sgranare questo testo poetico per metterlo in scena. Il sostegno che io ho dato ad Anna attraverso un lavoro di training è stato proprio quello di far emergere sia a livello di testo che sulla scena quello che era il desiderio che Anna voleva trasmettere. Ed in questo ci sentiamo molto fortunate perché abbiamo attuato un metodo orizzontale, quindi un continuo dialogo alla ricerca di quella soluzione migliore per portare fuori quello che veramente Anna voleva raccontare di questa storia importante e di esempio per tutta l'umanità, la storia di Maria Ilfranco. Tu hai tirato l'anima proprio del testo. Insieme con Anna sì, ho tirato l'anima, ho tirato l'anima di Anna. Ho tirato l'anima di Anna, sto parlando. Sì, assolutamente sì e poi durante il lavoro è uscito fuori l'idea di essere anche io in scena come l'ombra di Marielle in quanto nella storia tra Marielle e la sua compagna Monica c'era questo aspetto di compenetrazione fra le due e di complementarietà. Per cui io sono un'ombra che appare soltanto alla fine. Sono davvero orgogliosa di questo lavoro per il tema che tratta. La passione di Anna, che è un'attivista da sempre in realtà, non certo dell'ultima ora, mi ha portata veramente ad avere cura in questo lavoro ed è quello che mi porto nel cuore veramente di tutto questo bel progetto che ripeto è solo all'inizio. Anche precisione, perché ho visto i tempi, insomma, molta precisione nei tempi, nella luce, un po' in tutto quello che fa, ho visto le prove, insomma, in tutto quello che fa da molto puntiglioso, insomma. Sì, puntiglioso, preciso, ma più che altro il ritmo, nel senso che l'idea era di raccontare questa storia in una modalità che non fosse di tristezza e di malinconia, ma che sicuramente esiste questa malinconia perché Marielle è stata assassinata e non possiamo fare finta che questo non sia avvenuto, ma nello stesso tempo raccogliere quel lato di umanità che abbiamo di riuscire a raccontare senza la pena, ma con il coraggio, perché questa donna ha avuto coraggio a mostrarci l'immagine di un mondo possibile e purtroppo credo che è per questa immagine che è stata assassinata, questa immagine che voleva regalare al mondo. Noi vogliamo recuperarla e vogliamo condividerla con tutto, che è poi nella filosofia di Marielle e di Monica e di tutte le attiviste del Brasile. Bravo, hai detto tutto, sei stata molto incisiva. Grazie. Grazie a voi. Grazie.